solo femmine di tre anni in questa interessante terza del convegno otto in prima, una in seconda corsa che vede favorita Zambro P molto cresciuto ultimamente ma anche Zara BF Zara Daniel e Zolid Model insomma, corsa molto aperta arretrato il 7 di Zarina e Zolid numero 8 con cautela Zagabria numero 5 galoppa il 9 di Zenobia Gall Zanzibar Fii va al comando all'attacco della piegata tenta di reggere i birilli ma interviene Zambro P e si ritrae Zanna Bianca e la leva di Vincenzo D'Alessandro Iuno riviene a chiedere strada 13 e 9 a partire la targata OP prosegue sopravanza l'avversaria siamo al completamento della piegata con l'Espouacaf che passa al quarto iniziale nell'ordine del 29 ed è la volta di Zanna Bianca e va a sollecitare Zambro P le cavalli sono al completamento dei 600 iniziali 600 da parte delle due in testa in 44 e 3 da 1 e 14 e siamo sulla piegata si è formata una seconda fila a largo con Zambro P che ora tenta di ridurre leggermente l'andatura e completa il mezzo miglio in 1 mi 1 meno qualche cosina Zambra Zanna Bianca Zanzi Barfi Zara BF e poi Zagabria Mail allunga la Esplouacaf di D'Alessandro 15 e 9 il chilometro si fa notare Zara BF con Gaetano Di Nardo e Zarina Daniel con Mario Minopoli Junior viene via la grande anche Zolid Model gruppo molto compatto 14 e 7 1 e 36 tre quarti di miglio Zambra al comando insiste Zarina Daniel cerca di agganciare Zambro P e la Daniel di Minopoli viene forte ma interviene alla grande Zolid Model che impegna la Zarina Daniel e in zona traguardo galoppa e si elimina vince così Zarina Daniel su Zambro P e per il terzo attendiamo il giudice d'arrivo ma dovrebbe essere Zimaria non è la mia zia ma è la zia di qualcun altro forse di Emilio Zimaria che pagava 94,50 bravo e fortunato fortunato e bravo Mario Minopoli con questa bella targata Daniel che sull'errore dell'avversario che cercava di prendere nettamente la meglio si elimina con una rabbiosa rottura per il momento è tutto saluto agli amici dello studio centrale Gabriele e Pierfrancesco se non vado errato linea allo studio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti